Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, un sistema perturbato dalle isole britanniche e dalla Francia lunedì raggiungerà tutte le nostre regioni e darà vita a un minimo di bassa pressione che dal Vigule si muoverà verso il nord-est delle regioni centrali. Le piogge per buona parte del giorno non solo al nord ma poi anche sul lato tirrenico. A martedì guardate gli acquazioni che bagneranno anche molti settori del lato ionico e versante adriatico. Insomma due giornate di instabilità per l'Italia. Mattinati lunedì che vede subito un incremento della nuvolosità al nord-ovest con le piogge e poi entro il pomeriggio anche il nord-est e gran parte del centro-sud sotto la copertura nuvolosa e le piogge tra Sardegna e lato tirrenico. Qui i venti sulla Sardegna saranno impetuosi di maestrale entro la serata. La mappa delle precipitazioni ci ha fatto vedere appunto i fenomeni sulla parte tirrenica appunto la mappa ce lo conferma. Entro il pomeriggio e la serata dalla Toscana, dall'Umbria, dal Lazio scivoleranno verso la Campania, Calabria, Sicilia ma anche la Sardegna e ovviamente le piogge che sino alla mattinata bagneranno tutto il nord e anche copiose tra Liguria, Alta Toscana e tutta l'area alpina. Proprio sulle Alpi del nord la neve farà la sua comparsa tra i 700 e i 1400 metri di quota. Seguite tutti gli aggiornamenti scaricando l'app di Travi Meteo.